Questa è una monfea dell'Alfa Romero. Spostate un po' a me. E' quella? E' questa? Vieni. E' questa? E' questa? E' una 75, sempre dell'Alfa Romero. E' questa? E' una spider. Ma nessuno sta facendo le foto di questa? Ma senso ha domination. Perché vuoi? Chi è che ancora con questi? Chi è eccessливato? E' una nuova vina. E' uno roto prima. Un incremento. Non ho 5are... Grazie. 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 Grazie.